Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina. Questa frase di Sant'Agostino ci introduce in modo perfetto ai viaggi del cuore. Un pellechinaggio verso luoghi fuori di noi che ha lo scopo di ricondurci al centro di noi stessi, al cuore. I pellechinaggi infatti non sono qualcosa soltanto del passato. Anche oggi molte persone decidono di visitare santuari, monasteri o altre mette venerate come sacre. C'è chi va per una scelta rivoluzionale, chi cercando una grazia. Alcuni invece vanno per ammirare monumenti o opere d'arte presenti in questi luoghi. Che vi riconosciate nell'una o nell'altra di queste motivazioni, vi invito a unirvi con noi in questo viaggio. Andremo a visitare alcune di queste località, in particolare in Piemonte, sulle orme di un grande santo, Giovanni Bosco, che il nostro viaggio, anzi il nostro pelinaggio, abbia inizio.